E' giunto Dariano Inerpino per rivolgere personalmente un grazie a tutti coloro che hanno affrontato con professionalità, abbelegazione e amore, l'emergenza Covid-19 e la solidarietà mostrata dal commissario della Lega di Avellino Pasquale Pepe. Una visita istituzionale per dire grazie a queste persone in camici bianchi che hanno fatto ben oltre il loro dovere e ci aspettiamo che abbiano tutti i riconoscimenti morali, sociali ed anche economici da parte di chi di competenza. Le istituzioni devono abbracciare Ariano, ha aggiunto il senatore Irpino lanciando questo appello al governo. Devono dimostrare di essere istituzioni serie e responsabili e quando parlo di istituzioni mi riferisco alla regione Campania e mi riferisco al governo centrale. Devono dare un segnale di solidarietà, di fiducia a questa comunità straordinaria che fin qui non c'è stato e lo dico al di fuori di ogni polemica. Noi presenteremo tramite i parlamentari Irpini, Barbaro e Grassi degli emendamenti perché ci sia riconoscimento a tutto tondo di questa comunità e perché questa comunità abbia le risorse economiche importanti, giuste e necessarie per ripartire.